Musica Mister Roberto Gioia 2 a 2 Una osonia che è apparso più apatico nel primo tempo che altro Poi i due gol sono stati belli ma è un risultato che non porta a nulla No ma oggi non si trattava di risultato anche perché classifica alla mano servivano a pochi punti Era soltanto per cercare di chiudere bene la stagione in casa davanti al nostro pubblico Che meritavano una soddisfazione del genere Però il primo tempo come hai detto giustamente tu Siamo stati io direi bruttissimi non apatici E quindi abbiamo regalato un tempo alla squadra avversaria Dopodiché forse la strigliata negli spogliatoi è servita Fortunatamente siamo stati poi bravi a rientrare con un piglio diverso il secondo tempo E forse addirittura ci va un attimino un po' stretto Ci poteva stare anche il 3 a 2 Un bilancio di Mister Gioia di questa stagione È stata lunga, è stata logorante Adesso c'è solo una gara da svolgere ma serve solo per chiudere il campionato Ma io direi che la stagione è stata positiva sicuramente Perché sappiamo tutti che l'Insieme a Osonia si affacciava per la prima volta In un campionato così importante C'è il rammarico perché magari ecco Abbiamo chiuso troppo in fretta il discorso salvezza E da lì in poi abbiamo fatto fatica Probabilmente ci siamo accontentati E questo è quello che non mi è piaciuto Durante queste ultime partite L'ho detto più volte ai ragazzi Ho cercato di lavorare sull'orgoglio Più che sulle gambe Anche perché sulle gambe c'era poco da lavorare Fortunatamente almeno Non abbiamo chiuso con una sconfitta L'ultima in casa Sì ma poi più che altro Perché è sempre stato il nostro fortino Qui in casa Invece adesso sembrava addirittura Che chiunque venisse Trovasse vita facile Quindi dava un attimino fastidio Però ripeto Dispiace il fatto che magari ci potevamo togliere Qualche soddisfazione in più Rispetto a quella che poi abbiamo fatto Ultima partita Mister Gioia ha qualcosa da sperimentare ancora In vista della prossima stagione Magari dare più spazio A qualche giocatore che non ha giocato Visto che mancherà anche Emma No, allora Il discorso è che noi volevamo dare spazio A qualche 2000 Però fortunatamente la Juniors Si sta giocando qualcosa di importante Nel campionato loro E quindi giustamente i ragazzi Vengono chiamati con la Juniors Abbiamo provato qualcosa di diverso Rispetto al modulo Abbiamo provato a giocare con i tre piccoli Facciamo delle buone partite E poi a volte invece cadiamo In degli errori banali E quindi bisogna lavorarsi Perché anche in prospettiva Questo potrebbe essere un discorso Da fare in alcune partite E dobbiamo lavorarci ancora di più E non buttare tutto all'aria Alla prima difficoltà Che voto dà Mister Gioia a questa Osonia In questa stagione? Io do dieci Per il semplice motivo Che la società aveva detto Che il nostro obiettivo Era la salvezza L'abbiamo raggiunta Con molta tranquillità Se ci guardiamo alle spalle Ci sono squadre Che hanno fatto la storia Del calcio in questa categoria Quindi non possiamo Che essere soddisfatti E' chiaro che poi Come dicevamo prima Resta in rammarico Perché qualche punticino in più Potevamo sicuramente averlo Però Credo che anche questo Serva da lezione A me, alla società Ai ragazzi A tutti All'ambiente Possiamo solo che migliorare A me, alla società A me, alla società A me, alla società